Musica Esordio qui alle tre per forza Motorsport 3 allo stand della Microsoft con grande successo di pubblico siamo qui con John Wendell che è il direttore creativo, art director responsabile per Forza Motorsport e gli stiamo per chiedere quale è l'aspetto su cui si sono focalizzati maggiormente durante lo sviluppo Hi, I'm John Wendell, I'm the art director at Turn 10 Studios, we make Forza Motorsport 3 Which was the main aspect you focused on while developing Forza Motorsport 3? Well the game is so big, we focus on a lot of areas, but the area I'm probably the most personally proud of as the art director is the graphics in the game The game, even though it's on the same platform, the Xbox 360, we've made huge leaps in the way the games look We've completely rewritten our graphics engine from the ground up, our content pipeline And what that means is it's allowing us to get all of the true performance out of the Xbox 360 The cars, for example, that you'll see here on the show floor, they have 10 times the polygons that the cars in Forza 2 had Four times the texture resolution What that means is there's an incredible amount of detail in these cars You look at a car like the beautiful Audi R8 here in our demo on the show floor You'll see every little detail meticulously recreated, even the 24 little LED headlights Representing Audi's connection with the 24-hour Le Mans Every detail is there captured accurately La differenza fondamentale è che pur trattandosi dello stesso hardware, cioè Xbox 360 Sono ripartiti da capo con le engine creando modelli poligonali, ad esempio delle macchine 10 volte più ricchi E texture 4 volte a risoluzione più alta Questo si vede chiaramente a schermo con un dettaglio che è veramente impressionante E la resa è veramente ottima Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 3 Grazie John Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 4 volte a risoluzione più alta Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 5 volte a risoluzione più alta Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 5 volte a risoluzione più alta Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 5 volte a risoluzione più alta Ringraziamo John e vi salutiamo qui dalle 5 volte a risoluzione più alta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.